Ci troviamo ad Argostoli e stiamo per partire. Siamo sul ponte della nave al numero 12. La Santina che fa un sorrisone. Mamma, ti ciao! Ecco che saluta a tutti. Andiamo a vedere che sollevano la barca. La Olinda? Olinda saluta? Ciao, ciao, ciao. Ora andiamo a vedere che sollevano la barca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bellissimo, eh? Vai, vai, vai! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.